La decisione di investire a Reynosa in Tamaulipas deriva dalle considerazioni di diversi fattori economici, principalmente la posizione geografica e la considerazione sulle risorse umane disponibili. Geograficamente Tamaulipas offre un vantaggio strategico importante essendo così vicina al confine con gli Stati Uniti, ha diversi porti di accesso dal mare e credo la frontiera più estesa dove passano più traffico commerciale tra Messico e Stati Uniti. Rappresenta quindi un punto strategico centrale per la penetrazione del mercato nordamericano. Da un punto di vista delle risorse umane la disponibilità di tecnici qualificati, di giovani studianti e tecnici sicuramente rappresenta un notevole vantaggio competitivo rispetto a altre potenziali forme di investimento. Emotronic ha deciso quindi di installarsi a Reynosa e in Tamaulipas per permettere e per creare una piattaforma di sviluppo industriale che da Reynosa e da Tamaulipas possa conquistare il mercato nordamericano.